Ciao a tutti sono Mondo dello Spettacolo, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Gianni Morandi è molto famoso e chiunque, lo riconosce quando passa. Un nuovo amore per lui, sembra ringiovanito al suo fianco, nell'ultimo periodo Gianni Morandi sta facendo parlare nuovamente di sé. Nella sua vita è sbocciato un nuovo amore, molto più giovane di lui. Un tradimento nei confronti della sua Anna? Pochi personaggi del mondo dello spettacolo sono stati in grado di raggiungere una fama ai livelli del grandissimo Gianni Morandi. Il cantante ormai è giunto all'età di 76 anni e, nonostante questo, riesce ancora a sorprendere il pubblico. Morandi ha all'attivo il numero incredibile di ben 50 milioni di dischi venduti, non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Ad oggi è considerato una delle figure più importanti all'interno del panorama musicale nostrano. A partire dagli anni 60, Gianni Morandi ha prodotto 84 dischi. Sicuramente una delle beat più famose, che ognuno di noi ha sentito almeno da una volta nella vita, è fatti mandare dalla mamma. Ma non solo grandissimo cantante, anche volto iconico della Rai e dalla conduzione italiana. La nuova fiamma di Gianni Morandi è un vero spettacolo, impossibile non girarsi quando passa. Di recente, sui suoi profili social, Gianni Morandi ha pubblicato una foto in cui è ritratto insieme al suo nuovo amore. Nessuno si sarebbe mai aspettato una cosa del genere, soprattutto considerando l'età del cantante e di questa sua fiamma. Sappiamo molto bene come, sono diversi anni, che è legato profondamente con la sua Anna. E chi è riuscita a far finire questa stupenda storia d'amore? Con il sorriso stampato sul volto, il cantante appare in una foto insieme alla sua nuova Mercedes. Nonostante lo scatto non permetta di vedere per intero il tipo di automobile, un occhio più esperto riuscirebbe a capire immediatamente di quale modello si tratti. È una stupenda e fiammante Mercedes-Benz GLE 300, erede spirituale della classe M, altro SUV della casa automobilistica tedesca. Un'auto davvero impressionante, per fortuna, Anna, non ha nulla da temere. Il loro è un amore che non finirà mai. L'auto in questione è molto grande ed è ideale per svolgere lunghi viaggi. Anche il costo di questa Mercedes si fa notare, infatti è di ben 82.000 euro. La vettura si presenta con una cilindrata di 1950 cm3, ed è alimentata a diesel. La potenza, ben 245 cavalli. Insomma, sicuramente si tratta di un'auto che non passa inosservata. Nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere Gianni Morandi a bordo di un bolide del genere. Però è stato amore a prima vista, il cantante non ha potuto assolutamente fare a meno di acquistarla dato che ne è rimasto completamente folgorato. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Grazie per aver guardato il video.